Il nostro Daniele Cardia è andato a visitare la sede dell'Associazione dei Ciechi e degli Ipovedenti che da anni fornisce sostegno e supporto alle persone con difficoltà. Buongiorno amici di 1.4, siamo alla biblioteca sulle disabilità e siamo in compagnia di Margherita Orgiana dell'Associazione RP Sardegna Orgiana. Siamo in via Pasqualetto da Trenta Cagliari e questa è la sede dell'Associazione dei Ciechi e degli Ipovedenti e dei Retinopatici RP Sardegna ODV che da 30 anni si occupa di fornire supporto e sostegno alle persone con difficoltà visiva. In particolar modo un'attenzione negli anni è stata dimostrata alle persone con retinite pigmentosa che è una malattia ereditaria che purtroppo in Sardegna colpisce un grande numero di persone e porta a una progressiva pervita della vista. Da due anni ha deciso di creare la biblioteca sulle disabilità, una biblioteca che comprende tutte le disabilità, non solo quella visita, quindi è rivolta a tutta la cittadinanza, è una biblioteca completamente gratuita, il catalogo si trova online sul sito dell'OPAC regionale e qua abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo tutto il materiale che può servire a sensibilizzare, informare e far conoscere il mondo delle disabilità in modo tale che attraverso la conoscenza non si abbia più paura di quello che può apparire forse diverso perché tutti abbiamo delle differenze, abbiamo diverse abilità, siamo tutti diversi gli uni da gli altri e bisogna solo conoscere quello che ci ritroviamo davanti.